Ma scusami, non vi eravate lasciati? Sì. E allora che è venuto a fare? Eh, io che ne so. È bello a volte non avere l'impressione di parlare da solo. E col tuo professorino ti è passata, stanzetta. Certo sei gemelli. Che dici? No, dico speriamo che sia gemelli. Mio padre è gemelli, non lo sopporto. Guarda che anch'io sono gemelli. Sì, non lo so. E allora parte tua figlia? Eh certo, ma quelli sono giovani, eh. Non si divertono adesso, poi la nostra tà c'è poco da divertirsi. Pensavo ad una cosa. Che cosa? Mi prendi mai per mano. Intanto facciamo il viaggio insieme, ti accompagniamo, poi magari ci divertiamo, rimaniamo là anche noi. Ma voi siete sicure che non si sparano più là? Mamma, la guerra è finita più di 15 anni fa. 15 anni? Mamma mia, sembra ieri. Sono incinta di tre mesi, non dovrai fare un viaggio. Proprio per quello che lo devi fare, quando ti ricapita. Parca bottana, non mi hai detto niente. Mi hai tenuto nascosto tutto, come se io fossi una qualsiasi. Dice che sono gorgeous, che significa? Che ti si vuole fare. No. Credevo che stessimo facendo un viaggio insieme. Tu non ti preoccupare, è un problema mio. che non riesco più ad esserti solo a me. Me ne frega qualcosa? Ma che dici? Di quello che sto facendo della mia vita. In questi giorni non è successo niente. Ma è cambiato tutto. La mia vita è la mia vita è la mia vita.